scule da 3 eh si metti ok ok va bene va bene ehm no aspetta forse non ho messo un cazzo siiii ho sbagliato mi sa che non ho fatto add ho fatto solo buy nooo vabbè l'accendino però ci serve per gli stick ecco perchè ci mette 4 ore a caricarmi ok ok non ho mai caricato la mappa quindi arancino ok sta arrivando benissimo allora crocifisso che non funziona ah il termometro ecco che cazzo avevo comprato niente è rimasto lì niente facciamo la missione easy allora aspetta eh crocifisso dirty water non si farà mai quindi cos'è che serve è il crocifisso ma che chiedi maria thomas no risponde a chiunque ok possiamo portarla subito la radio c'è chennino e dreddino aranciro ciao ciro ciao ciro queste sono quelle potenti giusto no le abbiamo già prese quelle potenti no una mia deve essere ancora lì ah no no si è quella è quella potente io ho l'ultravioletti e prendo il crocifisso io si per me bisogna lanciarglielo il crocifisso o lo devi tenere in mano o devi lanciarglielo che adesso glielo lancio la chiave l'hai presa si si presa io presa io era lì dove ti avevo detto liquid stavolta si ma l'altra volta non c'era io ho guardato che facciamo andiamo di nuovo su prima facciamo giusto ci separiamo separiamoci tranne chi non ha lvp chi non ha lvp cos'è lvp? e il cazzetto con le tucine questo? io non ce l'ho allora devo stare... sto contreddino dai maria thomas si chiamava? dato che io ho sia la torcia potente che questo cicci il nome del fantasma quella era? maria thomas non era maria thomas dacci un segno maria thomas stavo dicendo vuoi il torcione mi fai strada io faccio no come tu strada vai vai e perchè? intanto devi soltanto switchare come vuoi tu? fate così voi fate il piano di sotto e vado di sopra ok ok si ma controllatele le stanze state schippando tutto sto vedendo un cazzo io di qua dredino aspetta lo sei? eccomi sono qua sono qua arrivo hai tro? spegnete le luci della stanza dove avete fatto perchè non sappiamo dove è ancora il tasto eh perchè non lo troviamo cerchiamo di non sprecare la corrente qua sembrava esserci un cazzo maria thomas maria thomas controlla bene maria gomboni si è spenta la luce si è spenta ha spento già il generatore no è andata via la corrente esce vediamo se è sotto le scale no non c'è oh si? no c'è 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 è risponato lì? gg vai acceso maria thomas spegni la luce nella maria thomas sei qui cosa ne pensi di aranciro maria thomas noi possiamo chiamarla anche senza fm o sape per forza potete chiamarla anche senza dacci un segno aranciro maria thomas dacci un segno aranciro maria thomas maria thomas devi usare il tasto b guarda che anno maria thomas hai mai incontrato saci andiamo di qua a dire di no no non è qua spingiamo la luce passa era con b vieni qua vai che? 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 maria thomas dacci un segno maria thomas maria thomas maria thomas maria thomas dacci un segno non sembra essere qui che andino maria thomas dacci un segno no no andiamo di lì anzi tieniamola aperta così sappiamo che ci siamo già entrati maria thomas dacci un segno maria thomas maria thomas dacci un segno dacci un segno maria thomas maria thomas dacci un segno guarda le forbicine di esta cichina maria thomas ti puzza il culo maria thomas dacci un segno maria thomas dacci un segno Maria Thomas Niente Tredino Maria Thomas Dacci un segno Sei morta nel bagno Maria Thomas Tredino giurati verso Non ti vedo più Sei morta nel bagno Maria Thomas Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Sei qui Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Dacci un segno Ok Vai pure It's part of the gameplay Trana I have to do it Maria Thomas Ti piace gomboni Maria Thomas Dacci un segno Si capisce Nasega Di sta Maria Thomas Maria Thomas Ti puzzalano Dacci un segno Maria Thomas Sopriamo così Dacci un segno Maria Thomas Maria Thomas Dacci un segno Sei una pussy Maria Thomas Maria Thomas Sopriamo così Ehm Niente 0-0 Non ho idea di quante Di quante cazzo Distanze ci sono In sta scuola Non riusciamo mai A vederle tutte Maria Thomas Sei qui Maria Thomas Devi uccidere Dreddino Per primo Mi raccomando Maria Thomas Maria Thomas Maria Thomas Maria Thomas Dacci un segno Le metterei anche sul tuo canale YouTube La prima di ieri sicuramente Marco Le altre non lo so Meno che non succeda qualcosa di super epico Che vale la pena ricordare Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Dacci un segno C'è la tavola Ouija Qui ragazzi No 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 Era La strada Maria Thomas Quanti anni hai? Magari ce la mettiamo dopo Maria Thomas Mi senti? Maria Thomas Can you hear me? Maria Thomas Parlami Dacci un segno C'era Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Ok Lascio La luce accesa Dove c'è la tavola Ouija Così Sennò A meno che non spenga tutto Vai Spendi pure Entri qui Maria Thomas Sei qui Maria Thomas Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Dacci un Un Eh cosa? Maria Thomas Dicci qualcosa Su parlaci Maria Thomas Mannaggia Gesù Eh? Maria Thomas Maria Thomas Maria Thomas Maria Thomas Maria Pia Dacci un segno Cosa è? Non vedo niente Maria Thomas Qui c'è la luce No Cazzo di scabuzzi Aspetta Maria Thomas Dacci un segno Maria Pia Dacci un segno Dacci un segno Pia E di qua Sei qui dentro Pia Pia hai comprato il gioco Allora vieni a giocare con noi Pia Rispondici Dacci un segno Maria Pia Niente Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Mi sono rotto il cazzo Di dire il tuo nome Muoviti Vieni fuori Maledizione Cazzo Dacci un segno Vieni a andare in palestra Andiamo qui Aspetta che spengo la luce qua PVP Pia Che cazzo di stanza è questa? E' un prossimo enorme Guarda Guarda che nino Enorme C'è un cazzo di luce Cerchiamo una luce Maria Thomas Dacci un segno Ma era una mensa No è Sì è una mensa PVP Pia Maria Thomas Dacci un segno Dacci un segno Maria Pia Ciao Marco Puccettone Ciao Marco Puccettone Dacci un segno No direi fare prima la La palestra sai Dobbiamo fare la palestra? Maria Thomas Dacci un segno E lo immagini Sei nella palestra? Sì Vai vai Sì ma Tra poco ci attacca Ve lo dico Vi passiamo da qui Aiuto Bello Grazie per avermi liberato Se è fortissimo Comunque ultravioletti Per ora Non ne vediamo Grazie del segno Marco No Calma Ok Eeeh Vediamo Maria Thomas Dacci un segno Dove era allora? C'era l'interruttore Dacci un segno Maria Thomas Maria Thomas Maria Thomas Sei veramente Una grandissima Cudona Maria Thomas Fai squillare il telefono Ecco Maria Thomas Ehehehe Ehehehe Con la bocca demoniaca Dacci un segno Maria Thomas Mi senti? Dacci un segno Maria Thomas Dacci un cazzo Di segno Perché ci stiamo Rompendo Tutti quanti Le palle Maria Thomas Di là? O di qua? Dove è che abbiamo ceso la luce Di qua In qua Dacci un segno Maria Thomas Di qua? Sì In qua Dacci un segno Non c'è da segni Maria Thomas Che puntata Sei arrivata Su The Walking Dead Ehehehe 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 Stai aprendo la porta a testate Ehehehe Ehehehe Si si baga sempre Che ogni volta Ehehehe Ehehehe Si vede un fa Dei movimenti Incredibili Ehehehe Siamo Aspetta un attimo Lì c'è l'uscita Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas È la 45esima stanza Che controllo Per favore Dimmi che sei qui Non ne devo guardare altre Maria Thomas Non sei d'aiuto Maria Thomas Maria Thomas Parlami Maria Thomas Dimmi che mi ami Maria Thomas Dimmi qualcosa Parlami Ah culo Ah tette Tutto Maria Thomas Dacci un segno Niente Maria Thomas Ti prego Uccidimi Ti prego No Non faccio più Maria Thomas Ragazzo Sei Maria Thomas Non ti vedo più Maria Thomas Mando cazzo Stai Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Saci Dacci un segno Saci Per favore Dacci un segno Oh guarda Gli spogliatoi Cammino Vedi Lei mi risponde subito Ragazzi I fantasmi Sono educati Mica come questi Maria Thomas Dacci un segno Se davvero Negli spogliatoi Rido Ah ah Frickera Vibra E' anche da noi Ditemi che è da voi Non da me Maria Thomas Dacci un segno E' qui da noi E' qui da noi Senti i rumori No Non so se mettere il libro Subito Maria Thomas Dacci un segno Non mi sta dando niente Con la Niente Il cosino Guarda mi dà sempre una Sì vedo Allora aspettiamo Ha spento tutto Ho spento tutto Non vedo niente Adesso è la fine Adesso è la fine Andiamo Andiamo A fare il coso Aspetta Oh cazzo Maria Thomas Dacci un segno Vieni 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 C'è la buona Stanta Maria Thomas Sì è tanta sinistra Dell'ingresso Maria Thomas Sì dobbiamo andare Allì in fondo Alle scale Interperiamo la mente Michael Jackson Se ricompare Sì L'altro Maria Thomas Era uscita Un altro stream L'oggi ho visto Comunque alla fine Sono gli stessi I nomi E i cognomi Sì Prima o poi capita Uno già sentito Maria Thomas Sei qui Dacci un segno Maria Thomas Rimessa la corrente Ok Maria Thomas Sei qui dentro Maria Thomas Potrebbe essere Da noi Qui da Vediamo Eh ma flickerà Pura lui Da sopra Ma flickerà Ovunque Quando Da un segno Però se a noi Ci dava Ma non credo Fosse un segno Penso volessi Attaccare qualcuno Let's La scopata Prova a seguire Prova a seguire il telefono A sto punto È ascolato solo una volta In direzione E non si capiva Ok Guarda Basta vedere se Il telefono Nelle aule Si ha No ma siamo Nella Stiamo passando Nella hall Maria Thomas Dammi un segno Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas È vero che vuoi più bene A me Sarai tu A farti vedere da me Non ti troveranno Quei due beduini Qui sotto Dammi un segno Maria Thomas Fredino Diamo via Fredino Maria Thomas Dammi un segno Ti prego Maria Thomas Ti prego Dimmi qualcosa Parlami Maria Thomas Parlami Parla con me Maria Thomas Parla con me Dimmi qualcosa Spento la luce Parla con me Maria Thomas Ti prego Maria Thomas Dacci un segno Cosa è successo Ha spento Ha spento tutto Andiamo a noi Squilla il telefono Ah ma siamo sotto le scale Dredino No le altre scale Ah no Sulle altre scale Lo so che eravamo sotto le scale Maria Thomas Dammi un segno Maria Thomas Smettila di staccare la corrente Cazzo Potrebbe essere quella Potrebbe essere quella Che attacca nel buio Tipo Quella ossessionata Dal spegnerne il generatore Perché l'ha fatto già due volte Cos'era Uri No cos'era Di Uri Ah fricchera Cazzo Oh cazzo Dino Dai Dino Maria Thomas Sei qui Ok Rimesso No no Ok Nino Vieni qui Vieni qui Vieni qui Cosa fai La scuola Ci ammazza qui Dredino Muoviti Andiamo in una stanza Andiamo in una stanza Ok Maria Thomas Mi sto rompendo il coglione Per favore Maria Thomas Dimmi qualcosa Parlami Maria Thomas Parlami Parla con me Parla con me Maria Thomas Maria Thomas Non ti piacerebbe cambiare nome Per cortesia Almeno smetto di pronunciare questo No No Niente Allora Riccara Riccara Vediamo se Spegne l'interruttore Maria Thomas Parlami Maria Thomas Maria Thomas Parla con me Parledino Parledino Quattro sei qui Maria Thomas Mi sto cagando in mano No Ti accendi la luce Non posso Ma è possibile Ok Non potevo Ti gioco Era buggata Forse Maria Thomas Come sei morta Perché Ti ammazzo Di nuovo Nello stesso modo Stronza Allora Di qui si esce Niente Non mi risponde Andiamo Gomboni Thomas Ah Si va l'ingresso Da qua Telefono La luce Maria Thomas E basta E basta E basta Vieni Vieni Ti dà qualche segno No Passi Passi da te Sì Allora Il potere Di spegnere Le luci Tutte Senza Staccare Il generatore Quindi potrebbe essere La mer Effettivamente Che è quella che Perché Il gene è ancora Attivo verde Ha spento tutto Ora è saltato È saltato È saltato È saltato Accendete Accendete Paura Sto andando Verdi Sto andando Verdi Ok Allora È su da te Dici Vero No Non lo so Ho sentito passi Magari Solo per Attaccarmi Verdi Nostra stanza L'abbiamo già fatta Vero Eh Questa parte Sì Dobbiamo andare Dall'altra parte Del corridoio Io penso Di averle fatte Quasi tutte Ragazzi E anche noi L'abbiamo fatta Così Ma sì A noi ci manca Un pezzettino Dell'altra ala Ma continuano A flickerare Questa Credo che mi manchi Questa che è Usciamo Rennino E rientriamo Dall'altra parte Oh cazzo Passi Di nuovo Aspetta Aspetta Rennino Diciamo che Si mette Di flickerare Ti dà qualche segnale No Pensù sia da liquid Ok Ha aperto Ok Da qua si usciva Ma no Non conviene Mi sa uscire No no E cazzo Rennino Maria Thomas Sei qui Svolchiamo l'angolo Maria Thomas Dammi un segno Forse so Qual è l'ala Che ci manca Dacci un segno Maria Thomas Che è quella Oltre la palestra Dai Maria Thomas Lo so che sei qua Cazzo Il telefono era questo qua Sono sicuro Su Dai Parlami Maria Thomas Parla con me Maria Thomas Porco Parla con me Non flickerare le luci Bastarda Non è così Che si comunica Con un come persone normali Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Dimmi qualcosa Parlami Maria Thomas Dai parlami su Non fare la stupida Stasera Qualche segnale Maria Thomas No Ecco Mi sto arrendendo ragazzi Non la trovo Un attimo luce Ok 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 Ah c'era Ecco perché Non riuscivo a camminare La panchina di merda Eeeh Cazzo è senza è questa E' lo spogliatoio E' lo spogliatoio Ciao Maria Thomas Sono tornato Allora mi parli questa volta Brutto scusa No che la fai incazzare La fai ridere Maria Thomas Maria Thomas Dacci un segno Parlami Maria Thomas Dammi un segno Dacci un segno Maria Thomas Di qua di qua Maria Thomas Dacci un segno Non cazzo Non c'è la luce Maria Thomas Dacci un segno Di qua No per me non è di sopra Dai Guardato tutto Scusi che è il telefono di qua Propogli una gara di ruti Vinci a lei Cazzo Dacci un segno Hai saltato la corrente Merda Eeeh dobbiamo andare a riattivarla Madre di no Dai ricordiamoci Sta stanza Però non aveva dato niente Fai un salto Un cerchio oloce Vedi sentita qualche segno Ciao amici C'è liquidino Eh si è qua Dove veniva il rumore Da qua Si si Abbiamo sentito problema di qua Ma niente Questa la prossima Eh no è qua cazzo È qua Dacci un segno Maria Thomas Maria Thomas Parlaci Parla con me Maria Thomas Senti i passi Senti i passi Maria Thomas Non ammazzare me Per cortesia Sono quello che ti ha voluto Più bene Fino adesso Aaaaaa Metto un libro Su un banco Ma non è qui Non ha dato segnale No Maria Thomas Mi senti Parla con me Maria Thomas Maria Thomas Mi sono glitchato in un banco Maria Thomas Ok La c'è un segno No ma non è qui il telefono Allora è la stanza dopo La posso? È aperta però Ma forse è aperta Io quando No nemmeno questa Dopo ancora Questa qua mi sa È impossibile No si è spostato È qui Cinque luci Cinque luci È qui È qui È qui È qui È qui È qui Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Dacci un segno Maria Thomas Parla con me Maria Thomas Comunica con me Parlami Parlami Maria Thomas Parlami Maria Thomas Non spegnere le luci Che poi non vediamo un cazzo Parlaci e basta Maledetta bastarda Stronza Maledetta stronza Shinja Yo Cocci 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 Cida Yo Maria Thomas È qui È qui Maria Thomas Non ammazzare nessuno Siamo giovani Maria Thomas No no Maria Thomas Maria Thomas Perché fai così Ok vado via Salutando Freddo 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 Ok Quindi c'è freddo Mi ha preso Ha ucciso Dreddino Scappiamo Che Aspetta Ho buttato la torcia Davanti alla porta Ma Fammi strada Che non vedo più un cazzo Ma io c'ho quella violetta Ah porca puttola Allora butta quella violetta Era il soccichino Era il soccichino Era quella bambina di merda Noo Soccichino Era una bambina Era la bambina di merda 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 Verretta Maledetta Ma tutto il colitoio è freddo Sì sì Allora La sento dietro La sento dietro Freddo e cinque luci No non c'è Non c'è Ah la vedo È nella stanza Ok Che deficiente Che deficiente Ha chiuso Dobbiamo aspettare Grazie Ok È scomparso Allora Allora Maria Thomas di sta minchia Non mi ha risposto alla radio Però io escludo la radio È parlato veramente un casino ragazzi Non c'ho più voce Per colpa di sta stronza E Camino Potrebbe essere un phantom O una benshee La camera Non posizionarla in mezzo Al cazzo Eh ma è davanti al libro Voglio vedere se ha fatto qualcosa Davanti al libro Ma no Perché non c'è Era accesa La 15 Oh ma l'avevo visto il tasto Niente Ragazzi Ma ho sbagliato Capito camera Vabbè questo non serve più Quindi serve il termo Ah no Il termometro non ce l'abbiamo Il termometro Il crocifisso Ce l'aveva Dreddino Il crocifisso Il crocifisso è buttato lì per terra Il termometro no Ma lo vedi che non serve Sei morto di nuovo Dreddino Perché lo butti Lo devi tenere Basta È una leggenda metropolitana Fa un cazzo Ma non siamo mai morti Con il crocifisso in mano È una prova Dai Quando moriremo il crocifisso in mano Sapremo che non si usa così Io l'ho buttato per terra Ne abbiamo buttati per terra due Mi hanno massacrato Quindi che facciamo? Andiamo a fargli un... Niente No vai a accendere quella telecamera Maledetta L'hai messa Dobbiamo vedere se ci sono gli orb Comunque potrebbe essere una benshee Abbiamo detto Allora Allora C'è la tratorcia Sì Benshee Ma c'era un fingerprint Eh ma non abbiamo il... Ah no Aspetta Allora Allora benshee naturale Attacca qualsiasi cosa Stalker ha una preda Finché non la uccide T'ha stalkerata Tedreddino Più o meno Ma voi eravate già fuori Quindi No ma prima Prima che t'ammazzasse Guidami Guidami un attimo dalla mappa Mi ricordo che a sinistra Vabbè La bambina sa che insegue L'equidino C'è mi sta flickerando la torcia da qui E sono dentro il camion Che è C'è l'attività 10 È qui È qui Guardala Che cretina Dimmi dove devo andare Ma che ne so io Qui 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 Eh c'è la mappa lì Eh che devo dirti della mappa Dall'altra parte che Ok Vai dritto Vieni dritto Dovresti vedere la torcia per terra No? Ok 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 Sì 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 Dentro Dentro Però aspetta che no Aspetta non entrare che lei è lì dentro No non è dentro Non è dentro È fuori È fuori Prova a guardare per terra Prova a guardare per terra Ma ha buttato la camera a terra Era sul banco No c'è poca attività comunque Vai tranquillo Però adesso Vai che è nino Sto cercando la camera La lanciata di l'acqua Cioè io c'ho la sanità mentale a zero Non sento Dredino cosa? È qua è qua L'ho trovata Eh sì Dredino Tu l'hai trovata ma io non ti vedo Aspetta Fermo Ecco Vai 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 Dritto 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 Lì Dieci attività È anche la mia torcia lì Lì vicino Eh aspetta che c'è Oh oh Scappa che cazzo fai ancora lì Esci da quella stanza No 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 Stai 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 è andata avanti È andata avanti Dredino io la camera non la vedo Ah eccola È lì È lì È di fianco alla torcia Sul libro comunque non ha scritto nulla Perché hai coperto da altri libri nel libro? Ok vado via Ok La camera l'ha buttata lei Perché era attiva Era sul banco E stai attento perché Passeggia nei corridoi Sto stronza Ok Ma è una bambina come? Normale o come quella di ieri? No no Come quella di ieri La bastarda No no Non la voglio rivedere Cazzo Mi fa paurissima quello schifo Che sceglie una top model in confronto Non vedo gli orbs Loni che fa? Vediamo Ma no Non è un libro comunque no No ma giusto da vedere Termometro non ce l'abbiamo Allora Hai detto livello 5 Non ti ha risposto Non ci sono impronte Non ci sono gli orbs Libro no Contratura Ci manca l'indizio Ci manca Manca la terza Manca sì O è l'impronta Io ero girato tutta Con me dice O Banshee O Fantasma Phantom come Phantom Fantasma Che si Che si impossessa Dei vivi Possono essere chiamati Con la tavola Ouija E c'è la tavola Su Era in questa run La tavola Sì sì Io metterei Fantasma Phantom Sì ma non abbiamo fatto un cazzo Eh non c'abbiamo un cazzo Ma me non Il crocifisso Lo potremmo fare Se si capisse come Ok Boom Ma non è Phantom Ma non è Phantom Non c'è il Ghost Orb Guarda l'attività Come fai a tornare dentro L'attività è così Da quando hai iniziato a flickerare Siamo rimasti dentro 90 minuti Prima di morire No non è il Banshee Perché? Il Banshee ha paura La terra non è una prova Basta Non ci sono gli Orbs però Ci sarebbero gli Orbs se fosse un Phantom Puoi vedere pure me bene No Non ci sono È una Banshee Dai Banshee Vogliamo fare una testa per sicurezza No 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 È una Banshee È una Banshee Vai Banshee Io mi fido Vado Vai Mica è 200% di sanità Eh sì è quello che mi spaventa di più Che nell'attività Scappate Vado a tornare Ho preparato un'attività per te Banshee Guarda là Mamma mia Mamma mia Le impronte ve l'ho detto Bisogna capire dove le lascia Perché non le troviamo Perché non sappiamo dove le lasciano Sulla porta non c'era comunque Allora Ho 65 Però sono ancora lì allo 4 Quindi Aspetta ancora un turno Allora